Un corso per insegnare l'accoglienza e l'ospitalità romagnola. L'associazione Dalpane inaugura il proprio cocktail di eventi per ricordare Walter Dalpane, iniziando da una delle pratiche dove Dalpane era inconfondibile, l'accoglienza degli ospiti all'interno di un locale poiché più che la qualità della cucina o dei cocktail è la qualità del servizio che porta i clienti a tornare. 12 lezioni a cura di professionisti del settore enno gastronomico con prove pratiche ed esperienze sul campo nei locali partner del progetto. Un mese di formazione dal 21 febbraio al 31 marzo, rivolto agli under 30, per insegnare le buone pratiche romagnone che stanno scomparendo. Si inizia con un aperitivo dedicato a Walter Dalpane, visto che il periodo è quello che è, abbiamo dovuto un po' spostare la giornata intera del 3 febbraio del suo compleanno, però volevamo dare un via al Valzer di eventi con un aperitivo dedicato a lui, e lo abbiamo fatto proprio qui a Casa Spadoni perché ci sono gli spazi per poter essere tranquilli e rispettare un po' tutte le regole di questo momento. All'aperitivo però farà seguito anche un corso vero e proprio dedicato all'accoglienza. Che cosa si insegnerà? Il corso è dedicato ai ragazzi under 30 perché comunque Walter Dalpane, che per noi è stato il maestro dell'accoglienza a Faenza e sul territorio romagnolo, ha sempre dedicato una buona parte dei suoi progetti ai giovani, credeva sempre molto nei giovani, quindi il progetto è dedicato a questi ragazzi che un po' oggi, a cui manca un po' quella vericità e quell'accoglienza di cui la Romagna si fa vanto da sempre, insomma. Noi abbiamo insegnato, credo, non voglio dire forse a tutta Italia, a livello turistico probabilmente a livello europeo, però sappiamo fare l'accoglienza, è quella che ci viene meglio, insomma. Quindi quello che vogliamo trasmettere e insegnare noi è questa parte, diciamo così, legata alle motività. Non alla parte tecnica, ecco, alla parte tecnica ci pensano altri tipi di istituzioni. Noi vogliamo insegnare ai ragazzi ad accogliere le persone in un certo modo, una volta che varcano la porta del locale, ristorante, pizzeria, bagno al mare, qualsiasi cosa sia. Quindi under 30 appunto, qualsiasi professione sostanzialmente, che ha a che fare con la clientela, mi pare di capire. Assolutamente sì, qualsiasi professione, chi è, praticamente chi è incuriosito di capire che cosa vuol dire in realtà accoglienza, allora può venire al nostro corso. Come accoglieva Walter le proprie persone? Io ho un po' di ricordi se li ho. Walter era impossibile che entrasse qualcuno nel locale e che lui non salutasse con una battuta, con un sorriso. Cioè era impossibile non incrociare il suo sguardo, quindi per lui era fondamentale far star bene chi entrava nel locale. Quindi questo è quello che vogliamo trasmettere noi.